Massimiliano Pignoli, capogruppo UDC in comune di Pescara, si mette di traverso alla sua maggioranza e alla sua amministrazione di centrodestra. Ne critica l'insufficienza nelle politiche sociali, incapaci di affrontare le criticità dovute alla congiuntura e soprattutto le scelte del governo Meloni, a partire dall'abolizione del reddito di cittadinanza. Ci sono persone che sono in attesa e che non riescono più a mangiare, quindi non è un problema di carattere che non si arriva più a fine mese. Adesso i ricchi sono diventati i borghesi, i borghesi sono diventati i poveri e quelli poveri non vivono più. Sapete il bando relativo ai buoni spesa che abbiamo tenuto aperto per poche settimane, che abbiamo dovuto ridurre la somma da 100 che era il buono a 50 per le tante richieste che sono arrivate? Questa è la risposta della grande crisi di Pescara e non mi si venga a dire che il comune di Pescara sta facendo tanto, ha fatto tanto per i pericoli sociali, assolutamente no. Vi faccio un esempio, il progetto Agora che doveva mettere a lavorare delle persone è stato bandito più di un anno fa, ma una persona può aspettare un anno per andare a fare un corso e poi andare a lavorare? Datevi voi la risposta. Non abbandonerò mai i cittadini, le famiglie della mia città che vivono un momento di difficoltà, dichiara Pignoli, che all'amministrazione Masci chiede di fare altrettanto. Cosa deve fare? Dare più soldi alle politiche sociali in maniera diretta. In questo momento aiutare significa andare lì a servizio sociale e vedersi riconosciuta, ad esempio, il pagamento della bolletta a fronte di una difficoltà reale. Il comune deve diventare un bankomat in questo momento di difficoltà.